Un negoziato durato ore e alla fine è arrivato l'accordo. Gli stati membri dell'Unione Europea hanno deciso un tetto per il prezzo dei prodotti derivati dal petrolio russo, trasportati via nave verso stati terzi. L'intesa è stata raggiunta su un price cap a 100 dollari al barile per i prodotti derivati cosiddetti di alta qualità come diesel e benzina e 45 dollari al barile per i prodotti di bassa qualità come gli oli combustibili. L'obiettivo è quello di impedire alla Russia di continuare a trarre profitto dalla guerra di aggressione in Ucraina e di sostenere la stabilità dei mercati energetici globali.